Ciao a tutti e a tutte e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Oltre le parole, la vostra rubrica di Transcreation. Tono di voce colloquiale, parla come Magni o quasi. Eccoci arrivati all'ultimo TOV caldo, quello che Valentina Falcinelli in testi che parlano definisce colloquiale. Con questo tono il brand fa ancora un passetto verso il suo interlocutore, trattandolo quasi come fosse un amico. Attenzione però a non usare ironia, sarcasmo o cinismo. Voi direte, beh ma se siamo casual possiamo essere ironici. Ricordiamoci infatti che non tutti hanno lo stesso tipo di ironia né l'apprezzano allo stesso modo. Citando ancora Liz Doig nel suo brand language tone of voice, la cordialità ha diverse sfumature e se da un lato è vero che oggigiorno quasi tutti i brand vogliono dimostrarsi quanto meno accessibili con il loro pubblico, dall'altro è vero anche che non a tutti sta bene lo stile di Ceres o Taffo. Ma bando alle ciance, vogliamo scaldare le sinapsi transcreative con un paio di esempi? Direttamente dall'home page versione british di Michelle e Augustin, Les Troubli ont du goût. Oltre alla bellezza del sito, alla genialità dei packaging discorsivi, andateveli a vedere, ve lo consiglio, e spoiler, alla bontà dei loro prodotti, notiamo un tono scansonato, coinvolgente, con interiezioni, oh my god, voilà, e il ricorso a trucchi che trasudano la Frenchitude. La scelta di risultare un po' retro, lasciando trasparire la propria nazionalità attraverso le parole o le costruzioni sintattiche, si abbina perfettamente al tono gioioso del brand. Ne volete un assaggio? È proprio il caso di dirlo. Happy Socks, entriamo a grandi passi nell'amichevolezza. Vi lascio due minuti per guardare e studiarvi questo testo della descrizione prodotto di Happy Socks per un paio di calzini. Il brand da del tu parla di secco di noi, è allegro ed enfatico, ma soprattutto utilizza contrazioni ed esclamazioni tipiche del parlato. In italiano dovremmo entrare nella pelle di questi inguaribili ottimisti, riproducendo nello stile ritmico e disinvolto e gli eventuali colloquialismi, ma senza strafare. L'attuale traduzione italiana recita, dimostra il tuo amore con heart. Non ci sono messaggi ambigui, solo tanti, davvero tanti, cuori. Non deve per forza essere per qualcuno che ami. Perché non regalarne un paio al tuo peggior nemico? Lo sconvolgerà ancora più di una tazza di tè avvelenata. Trovo che soprattutto la frase finale sia molto interessante da un punto di vista transcreativo. Voi come la trovate? Vi suona naturale? Vi piace? La trovate strana? Come potremmo adattarla? Io così, su due piedi, forse abbandonerai l'immagine della tazza di tè avvelenata, ma lascerei nella fruttiera anche le inflazionatissime mele, o comunque, quantomeno, non unirei il tè avvelenato all'idea di qualcosa di sconvolgente. Aspetto i vostri commenti e salutandovi forte forte vi do appuntamento a tra due settimane. Ciao ciao!